se l'ho trovato allora roma bangkok 380 euro andate ritorno tutto incluso andate ritorno aspetta 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 un attimo non è che bangkok sta proprio dietro l'angolo non sono così sicura perché la poi ci stanno gli insetti gli animali pericolosi o no non me la sento aspetta e magari se stiamo in un quartiere poco tranquillo gli atti terroristici la criminalità e poi lo fa troppo caldo io soffro con umidità lascia sta io ho bisogno di una vacanza quant'è che non le facciamo una lo so un po di tempo sono due anni che per fare gli spettacoli non ci muoviamo da roma fai tu io però bangkok non è che sta qua ma dai su la thailandia spiazzi ma si squali appunto e vabbè te non ti farei il bagno che te devo dire certo vado a bangkok e non le faccio il bagno no eh sono finiti come sono finiti a quel prezzo non ci stanno più ci stanno solo questi buonanotte 800 euro andata 800 euro e ritorno 8 e si può permettersi ciao ciao bangkok andiamo a freggene al mare è meglio da roma fino a bangkok